perché è la responsabilità di seguire delle regole allora Andrea Piccolo, questo è il tuo momento a nome di tutti gli atleti premetto che prenderemo parte al trofeo coni Caserta 2014 rispettando e seguendo le sue regole con spirito di sportività per la gloria dello sport e l'onore delle nostre squadre rispettando e seguendo le sue regole rispettando e seguendo le sue regole Grazie a tutti. 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 Perché noi siamo i primi a credere in voi, perché voi siete il mondo. In bocca al lupo, sto paese tiene bisogno di voi. Ciao! Su le cose... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.